Sconcerto, rabbia e dolore, ma soprattutto fatica a credere a quello che è successo. Erano in tanti a conoscere e ad apprezzare Sabri Jaballà, il giovane operaio pratese, di origine tunisina, morto tragicamente ieri mattina in un terribile incidente avvenuto alla Millefili di Montale, la filatura a Cardato dove lavorava da un paio di anni, l'infortunio mortale su cui la magistratura sta facendo luce. Sabri avrebbe compiuto 23 anni a maggio e si era diplomato due anni fa al Marconi, dove aveva lasciato un ricordo indelebile, al punto che sia il preside Paolo Cipriani, con tutti gli insegnanti, sia i ragazzi, lo hanno voluto ricordare con messaggi sui social e con una colletta per aiutare la famiglia. Sabri era arrivato in Italia da adolescente. Spesso andava a studiare alla biblioteca Lazzarini, portandosi dietro i due fratelli più piccoli, un terzetto che era stato subito adottato dallo staff della biblioteca, che ha aiutato lo sfortunato giovane, anche dopo, da diplomato, a spedire il curriculum per trovare un posto di lavoro. Pure le bibliotecarie della Lazzarini hanno intenzione di fare una colletta per contribuire alle spese di reimpatrio della Salma in Tunisia. Dal ricordo degli amici e dei colleghi emerge la figura di un ragazzo solare bravissimo sul lavoro, ma anche molto attaccato alla famiglia.